L'ATM è stata messa in liquidazione ma il Movimento 5 Stelle avrebbe preferito un'altra soluzione e si interroga anche sulle responsabilità del passato che hanno portato la società ad avere parecchi milioni di euro di debiti. Sentiamo Paolo Mangolo, consigliere comunale. Sulla questione dell'ATM ci sono ancora delle situazioni che sono poco chiare anche perché i numeri non sono certi, gli uffici ancora lavorano sui numeri, anche perché c'è la magistratura che segue un procedimento. Noi anche come gruppo consigliare abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta, poi il Consiglio non ci ha seguito su questa scia però sulla messa in liquidazione certamente ci sono dei dubbi. Noi abbiamo anche supportato questa fase, anche tratti in inganno da alcuni dirigenti che la mattina sono, il pomeriggio più che altro, sono arrivati in commissione e anche in Consiglio dicendoci soprattutto che non potevano essere trasferite delle somme che rischiavano molti lavoratori di non percepire lo stipendio, cosa che poi si è rivelata una falsità perché la mattina stessa erano stati trasferiti circa 4 milioni di euro alla società. È stata messa in liquidazione, seguirà il procedimento previsto dallo Stato dell'ATM quindi si scioglierà la società, ci sarà una commissione che poi dovrà arrivare di nuovo in Consiglio e seguiremo la vicenda con molta più attenzione. Qual è la vostra idea sulla dismissione del tram? Sulla dismissione del tram noi non siamo d'accordo perché è un'opera pubblica che costa diversi milioni e smetterlo porterebbe a nuovi costi, a nuove spese e potrebbe anche semplicemente essere migliorato con nuove idee.